Descrivi Italia 5 Stelle con una parola Italia 5 Stelle è divertimento Italia 5 Stelle è partecipazione Italia 5 Stelle è confronto Italia 5 Stelle è informazione Italia 5 Stelle è comunità Italia 5 Stelle è dialogo A chi è rivolto questo evento? A tutti gli attivisti A tutti i curiosi che vogliono informarsi A tutti i cittadini che vogliono conoscere il movimento A tutti i cittadini A tutti i portavoce per confrontarsi e per ricaricarsi A tutti Come può un cittadino essere d'aiuto? Venendo all'evento per condividere la sua esperienza con spirito propositivo Semplicemente partecipando Venendo a Italia 5 Stelle presso i nostri gazebo Noi come Regione Lazio avremo il nostro spazio e veniteci a trovare E facendo una piccola donazione Tante piccole donazioni rendono possibili grandi eventi Condividendo questo video e informando tutti di questo importantissimo evento Concludi con un saluto Allora ci vediamo tutti al Circo Massimo il 10, 11 e 12 di ottobre Partecipiamo a questa grande iniziativa che servirà per conoscere meglio il movimento E per cercare di portare tutte le nostre idee per salvare questo nostro amato paese Ci vediamo Italia 5 Stelle Ci vediamo tutti a Italia 5 Stelle Ricordatevi che da Circo Massimo è un tecitorio Il passo è molto molto breve Allora ci vediamo tutti i 10, l'11 e il 12 al Circo Massimo Ciao Ciao a tutti Ci vediamo venerdì, sabato e domenica a questa grande festa che sarà Italia 5 Stelle E siccome libertà e partecipazione partecipiamo tutti quanti Perché è in ballo il futuro del nostro paese A Italia 5 Stelle ci sarà anche lui E il bilancio della Regione Lazio Vi aspetto il 10, l'11 e il 12 sotto i nostri gazebo Per spiegarvelo e farvelo conoscere Per spiegarvelo e farvelo conoscere